Siamo a Montelabate, scenario fantastico. Ai piedi del castello è appena partita la sesta edizione dopo un anno e mezzo di stop della rassegna Le Buone Notti. Questa sera il primo appuntamento di tre incontri fatti di poesia, musica, lettura e anche sapori del nostro territorio. Ad aglietare questa buonanotte il poeta marchigiano Umberto Piersanti, che questa sera illustrerà uno dei canti più belli e più affascinanti della Divina Commedia di Dante Alighieri, il quinto canto dell'Inferno. E i protagonisti ovviamente sono loro, Paolo e Francesca, un amore medievale, un amore di sempre. E allora sono qui con il sindaco Cinzia Ferri. È appena partita la sesta edizione della rassegna Le Buone Notti. E direi che questa ovviamente è una rassegna particolare dopo un anno e mezzo di stop. Quindi direi che questa buonanotte è un augurio, non solo per augurarci buonanotte ovviamente, ma un augurio forse per augurarci qualcosa in più. Sì, esattamente così, in effetti noi l'anno scorso ancora non eravamo pronti, non era poi neanche forse giusto organizzare delle manifestazioni anche in rispetto proprio di chi aveva subito il lutto. Quest'anno abbiamo deciso di ripartire con difficoltà perché comunque le normative da rispettare sono tantissime, già ce ne erano tante ma se ne sono aggiunte ancora altre. Le persone però nonostante sia martedì hanno risposto molto bene, quindi vuol dire che c'è voglia di tornare alla normalità. Io perlomeno ho voglia di tornare alla normalità ma vedo che ce ne sono tante altre persone come me. Io volevo solo dire una cosa, che queste Buone Notti sono nate da un'idea di un vecchio assessore insieme a Roberto Russi, che è il presidente dell'associazione Monsabatis. E ha fatto riscoprire oltre ai posti del nostro comune, che sono bellissimi e nessuno magari conosceva, anche l'amore per la cultura e la letteratura, che penso che sia un valore aggiunto. Assolutamente sì, la cultura è sempre un valore aggiunto e soprattutto poter conoscere il nostro territorio. Ci vuole svelare quali sono le tappe dei prossimi due appuntamenti, proprio per conoscere di più questo territorio e questo comune? Allora, venerdì saremo in un'azienda agricola a Osteria Nuova, che ci è stata concessa dal proprietario. La vallata dà su tutto Osteria Nuova e Montecchio, ha un panorama bellissimo, l'abbiamo già fatta una volta in passato e quest'anno si ripeterà. E l'ultima buonanotte, perché a differenza delle altre edizioni che erano quattro serate, quest'anno sono solo tre, sarà invece su un crinale al Farnito. Un altro posto storico, molto bello, dove ci sono le mura del Farnito, con una vecchia chiesa e con tante storie. Però noi quest'anno ci concentreremo su Dante, perché è giusto ricordare chi è stato lui e cosa ha fatto per la letteratura italiana. Benissimo, quindi possiamo svelare che quella di quest'anno direi che è un'edizione dantesca allora. Sì, esattamente. Infatti il disegnatore della nettarina, Riccardo Rossi, ha disegnato la nettarina quest'anno per noi, che è anche riprodotta sulle magliette e anche sulle borse della spesa per chi vuole, ma invece di avere la corona dall'oro ha una corona di pesche. E quindi proprio per in memoria del sommo poeta. Sono qui con Riccardo Rossi, illustratore e fumettista di Monte Labate, che ha realizzato questa bellissima nettarina che è dietro alle spalle. Ci racconti di questo progetto? Io sì, sono Rossi Riccardo, sono l'illustratore dell'associazione culturale Monsabatis di Monte Labate, che ha organizzato queste serate che si chiamano appunto Le Buone Notti. Il personaggio, come hai detto tu, che si chiama la nettarina, è il simbolo, la nostra mascotte, che prende il nome da una tipologia di pesca qui del territorio, e che rappresenta un po' lo spirito delle nostre serate. Una donna abbondante, felice, ammiccante e quest'anno vestita di una toga e di una corona, non dall'oro ma di pesche, che è quella di Dante, dedicata appunto al nostro sommo poeta, che sarà il tema, diciamo, centrale di tutte queste tre serate che inizieranno appunto questa sera. Vedo che poi indossi anche una bellissima maglietta. Sì, noi tutti gli anni come associazione, insieme ovviamente alla grafica per i manifesti e quant'altro, realizziamo queste magliette che poi distribuiamo durante le serate. Ogni anno cambiano, ogni anno si ispirano al manifesto. Nella nostra associazione non ci sono solo io come illustratore, come creativo, ci sono altre figure, altri ragazzi che si occupano sia della grafica che dell'illustrazione e quest'anno ci sarà anche una sorpresa a fine serata che non vi svegliamo al momento. Però siccome sono troppo curiosa, vorrei saperlo in anticipo di cosa si tratta di questa bellissima sorpresa che avete riservato per noi. Allora, visto le norme vigenti di quest'anno che ci impediscono purtroppo di fare quello che abbiamo fatto tutti gli anni, ovvero regalare e offrire ai nostri ospiti un buffet a base di pesca di Montelabate, quest'anno abbiamo pensato di omaggiare tutti gli ospiti che parteciperanno con un piccolo regalo, una scatola realizzata dai nostri grafici, dai ragazzi dell'associazione, con dentro una pesca fornita dai nostri peschicoltori del territorio che appunto essendo una monoporzione possiamo distribuire senza problemi, essendo chiusi in questa scatolina che abbiamo ideato, sarà un bel regalo da portare a casa e per assaporare non qui ma a casa, alla nostra pesca di Montelabate. Sono qui con il poeta marchigiano Umberto Piersanti, che tra poco inizierà questa bellissima lettura nello scenario fantastico ai piedi del castello e allora chiedo al poeta che cosa ci illustrerà questa sera. Questa sera è la storia di un amore mediovale da una parte ed eterno dall'altra, un amore che ha travalicato i tempi e i luoghi. Dante che da un fatto di cronaca nera ha fatto risaltare i sentimenti e gli ha resi eterni. Questo è il tema di questa sera. E allora immagino che parleremo proprio di loro, di Paolo e di Francesca e del quinto canto dell'Inferno. Sicuramente, il canto più famoso della Divina Commedia perché la Divina Commedia è piena di canti bellissimi, piena, però nessuno come questo arriva al cuore di tutti, dall'accademico all'incolto. Perché è una storia d'amore che forse gli accademici capiscono meno di altri perché troppo spesso lo seppelliscono sotto un mare di conoscenze filologiche, storiche, che però non sempre riescono a cogliere il cuore delle cose. Cignesi con la coda tante volte, quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinnanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuno al giudizio, dicono e odono e poi son giù volte. O tu che vieni al doloroso spizio, disse Minossa a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto uffizio. Guarda com'entri e di cui tu ti fide, non ti inganni l'ampiezza dell'entrare. E il duca mio a lui, perché pur cride, non impedir lo suo fatale andare. Vuolsi così colà dove si può, ciò che si vuole e più non divantare. E allora sono qui con Roberto Rossi dell'Associazione Monsabatis. Ricordiamo che la rassegna è promossa dal comune di Montelabate, da importanti associazioni culturali, locali e ovviamente la direzione artistica di Monsabatis. Allora io a Roberto Rossi chiedo che lavoro c'è dietro a questo programma, dietro a questa rassegna. Sì, c'è un grande lavoro entusiasmante, bello, perché la nostra realtà in realtà non è da sola. Monsabatis non è da sola, la manifestazione ovviamente è promossa al comune di Montelabate, ma insieme al comune di Montelabate siamo un sabatis e ci sono tante altre realtà che collaborano per la riuscita di questi eventi, che sono piccoli eventi, ma che richiedono una bella partecipazione, un bel entusiasmo. E dopo un anno di ferma, diciamo delle buone notti, ricominciamo. Rimettere insieme gli entusiasmi e le forze non è mai semplice, però c'è tanta voglia di ricominciare e quindi credo che questa sera partiremo col piede giusto. Assolutamente sì, credo che siamo già partiti con il piede giusto, lo vedo dall'affluenza del pubblico e ricordiamo ovviamente che tutto comunque è stato svolto seguendo ovviamente le norme di sicurezza di questo periodo. Assolutamente, quella è la prima cosa che abbiamo avuto in mente, cioè di garantire proprio la sicurezza del pubblico, degli ascoltatori, dei presenti. Abbiamo, credo, messo insieme un bel programma per quest'anno, non potevamo che non rendere omaggio al sommo poeta in questo anno a lui dedicato e credo che sarà, sì, proprio una bella edizione. E in questo bellissimo scenario ai piedi del castello si è appena conclusa la prima serata della rassegna Le Buone Notti e abbiamo parlato di amore, passioni, paura e anche contemplazione della natura. E allora io in questa bellissima e calda notte vi lascio contemplare la luna, la natura e vi auguro una buona notte.